Uè! Non fare il pesce lesso! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi anche oggi tante tantissime novità per quello che riguarda il futuro di Fortnite e molti problemi che stanno insorgendo tra la community soprattutto nel competitive e per quanto riguarda l'utilizzo dei bot da parte di Epic Games purtroppo fino a domani non avremo aggiornamenti importanti per quanto riguarda i leaks ma ci aspettiamo ovviamente un bel downtime dei server e appunto l'update programmato per il 12 novembre che porterà sicuramente anche un bel po' di skin nuove di outfit e magari qualcosa riguardante la storyline di questa prima season del capitolo 2 di Fortnite Nel video di oggi parleremo anche del Black Metal set io non conosco bene SalvaIlMondo però ho trovato questa notizia per tutti i giocatori appunto della modalità forse non avete visto tutto il set ve lo mostro io vi do due informazioni parleremo appunto di Ninja vs Bot dice la sua e vi faccio capire anche il perché e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre informati sul dietro le quinte di Fortnite prima volevo comunque ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a trovarmi in live dalle 8 alle 18 su Twitch grazie 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 mille ragazzi per la vostra compagnia e grazie anche a tutti quelli che mi supportano con il mio codice creator xyuderone mi raccomando ragazzi iscrivetevi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica nei miei video ma prima la domandina ve la devo fare ragazzi vi ringrazio per commentare sempre questi video qua sotto domanda di oggi molto curiosa ma qual è il tuo preferito tra queste cinque skin e ci includiamo dentro anche la pizza ragazzi la skin della testa di pizza mi sfugge il nome momentaneamente tutte skin a tema del cibo e se devo essere sincero il gelato non lo conto neanche bello ma non non mi fa impazzire il burger ci sta il testa di manzo vado per la salsiccia mi piace tantissimo lo dog brat è veramente figo e ci piazza comunque al secondo posto la banana ditemi qual è la vostra preferita qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a parlare del black metal set anzi lo andiamo a vedere questo black metal set composto da sei armi alcune ottenibili forse tutte dalle missioni speciali di salva il mondo mi viene in mente la seconda dall'alto il broad slicer che dovrebbe essere l'affettatore di infanti se non ricordo male tradotto in italiano che è un piccone che si completa appunto svolgendo le missioni a tema su salva al mondo queste sono le immagini di tutte le altre cinque che completano appunto il set se qualcuno non le avesse ancora viste eccole qua io purtroppo di salva al mondo ne conosco ben poco ma andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ed è proprio lui ragazzi il signor tyler il nostro ninja che ogni tanto se ne esce fuori con le sue considerazioni il ningione che mi si è spostato su mixer ovviamente previ accordi milionari con microsoft vuole dire la sua sui bot qual è il vero problema dei bot e perché ninja si lamenta così tanto innanzitutto c'è da dire che dall'ultima patch quella che abbiamo scaricato martedì scorso il numero di bot presenti in game maxuder compreso sono diminuiti veramente tantissimo partendo dall'inizio di questa season dove praticamente 7 kill su 9 erano fatte ai bot adesso sono molto molto più limitati il vero problema dei bot è che sono a parte che sono ridicoli cioè sono fatti semplicemente per fullare velocemente le lobby e quindi mandare le partite una dietro l'altro e qui dietro l'altra e ovviamente azzerare il più possibile i tempi di attesa per fare una partita il problema è che molti giocatori stanno adottando soprattutto nelle partite un po più serie la tecnica di aspettare una volta che hai visto un bot praticamente non lo vai a killare ma lo segui in questo modo quando succede che un giocatore si impiega per killare il bot tu vai a fucilare il giocatore che sta attaccando questo è successo proprio in una partita in duo a ninja con reverse 2k e da lì ovviamente ha tirato fuori tutto il discorso sono a favore di quello che dice ninja perché anche a me è capitato stranamente che sto per killare un bot mentre gli sparo mi laserano dal lato dal nulla nel senso quindi comincerai a seriamente a pensare di tirarli via dal game per continuare a garantire una purezza del gameplay e soprattutto giocare sempre contro avversari umani e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi si parla della parte competitive di fortnite le fncs le fortnite championship series sono iniziate se non ricordo male venerdì se non dico una stupidaggine il problema è che sono iniziate un pochettino con il piede sbagliato innanzitutto la base è quella di raggiungere i 6.500 punti in arena per avere accesso alla parte più tosta di fortnite quella che tiene ancora insieme a livello competitive il game e continua a far crescere l'interesse il problema grande di queste di questa competizione sono proprio i problemi che hanno riscontrato molti giocatori che ne hanno partecipato e sono stati proprio problemi tecnici che hanno rovinato l'esperienza di gioco ad esempio vediamo innanzitutto il tweet di fortnite competitive la pagina twitter ufficiale dedicata appunto a questa sezione di gioco che si scusa con i giocatori cosa è successo in soldoni molti giocatori non sono riusciti a compiere tutte e dieci le partite come funziona più o meno nella sezione competitive cioè puntiamo a fare tot punti la partita va male siccome il tempo è poco si quitta e si ricomincia un nuovo match molti giocatori sono riusciti ad entrare solo al terzo match e addirittura alcuni punti non sono stati assegnati correttamente sfalsando quindi tutte le classifiche ci sono migliaia di post su twitter anche da parte appunto di giocatori di un certo peso che lamentano questa cosa ovviamente happy games sta capendo dove c'è stato l'errore per garantire questo venerdì se questo non ricordo male o questo sabato quello che sta per arrivare la seconda fase è ovviamente senza problemi speriamo che ce la facciano il prima possibile e arriviamo all'ultimo video di oggi ragazzi interessante è più una roba particolare parliamo ovviamente non tanto delle barche in sé ma dei mezzi di trasporto che oramai mancano e si sente pesantemente la mancanza di un veicolo da terra che possa permetterci di spostarci agevolmente nella mappa non lo diciamo solo qua in italia ne parlano veramente in tutto il mondo quindi è un problema che sicuramente sarà arrivato ad epic games da parte delle community da parte dei post e da parte di tutto quello che succede anche nei forum esce fuori un concept o se non è un concept è un'immagine io dico che è un concept però non si sa la fonte ed eccolo qua ragazzi sembra il classico quad crasher quello che avevamo nel capitolo 1 di fortnite ma invece lo scafo sotto è leggermente modificato perché sarebbe un veicolo anfibio cioè va nella terra ma nella stessa velocità va anche sull'acqua o comunque con un leggero rallentamento il che avrebbe anche un senso perché farebbe esattamente il contrario della barca va velocissima sull'acqua però va molto lenta nella terra ci aspettiamo veramente qualcosa il più presto possibile mentre vi ricordo anche che nei file di gioco sono presenti invece dei nuovi gadget trappole e consumabili che vi sto facendo vedere in questo momento che probabilmente arriveranno prestissimo e magari già qualcuno lo vedremo martedì io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche oggi il video delle news mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao